La fase di contenimento l'abbiamo fatta molto bene, ma dopo qualche errore dei singoli abbiamo preso due gol contro una squadra in gran forma come l'Ajax. Nel primo tempo non siamo partiti molto bene, non riuscivamo a metterli sotto pressione, secondo tempo meglio, abbiamo creato anche alcune palle gol, avremmo forse meritato il pareggio, abbiamo capito alcune cose nuove, però sappiamo di dover lavorare molto su alcuni fondamentali, sicuramente. Avremo bisogno di un poco di tempo e di tanto lavoro, nell'ultima settimana abbiamo provato gli schemi dopo il ritorno dei nazionali, alcune cose vanno meglio, ma insomma le sconfitte di questi tempi non fanno male. Dalle amichevoli si impara davvero molto, abbiamo giocato con un avversario molto forte, nel primo tempo sono stati micidiali, abbiamo fatto bene fino al 35esimo prendendo poi due gol e vita vidissimi, dopo poi bisogna per forza provare a togliergli la palla, abbiamo fatto del nostro meglio cercando di arrivare al pali, in fondo non è che siamo andati così male. E questo è un'ottima settimana, è un'ottima settimana.